Benvenuti ragazzi, siamo venuti in questo nuovo video di Anthony Papa di Roma qui per un nuovo video per giocare a scorrero oggi siamo con il mio cugino Luca che è anche un mio iscritto Ciao bella raga, io sono Luca lui è anche un mio iscritto perché comunque eravamo partiti da qua lui è anche un mio iscritto perché si è iscritto al mio canale per secondo perché me l'hai detto dopo comunque ragazzi erano rimasti qui perché stiamo facendo un video però il video si è eliminato e quindi lo stiamo rifacendo sono in possesso di palla come aiuteranno l'offensiva? se vuoi segnare tu lo sai battire le mani mamma mia che è sto portiere? se vuoi segnare tu lo sai battire le mani dai vediamo se funziona non funziona non funziona ma hai detto portiere le mani è un po' forte sto portiere se mi vuoi Anthony non lo togliere forse ti dà 10 non lo togliere ti dava 10 però datelo ok ragazzi madonna ma prima fammi provami se mi vuoi decidere lo sai battire le mani allora ragazzi seguite su tiktok ad Antonio ah è vero seguitemi su tiktok mi chiamo perché l'hai lasciato? perché tu avrei cliccato su quello gratis seguitemi su tiktok mi chiamo antoniopapa-basta-ufficial2000 poi ricordatevi di iscrivervi al canale commentare e mettete un like e attivate e attivate la campanellina per essere per essere sempre aggiornati sui miei video e poi condividete questo video dappertutto con i vostri amici i cugini con chi volete ah e anche gli altri video dove non ho detto comunque sublime vai in mezzo arrivo la palla comunque sono il Napoli di mio cugino io tipo Napoli c'era il Napoli se vuoi segnare tu lo sai battire le mani infatti clicca c'eravamo 16 banconote raga perché l'hai lasciata? no vabbè raga perché la lascia? raga non voglio finire subito il video rai e se tipo queste vite si ricarico dopo quattro ore? no vabbè appena che esce un poco io dico non la lascio più raga per essere attenti non voglio finire subito il video rai 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 perfetto che devo passer? c'è questo in mezzo rai perchè lo lasciano mi fanno arrabbiare così fuori gioco ma prima non era fuori gioco poi io non ho 9 minuti metti basso e vedermi il video metti basso ragazzi ok ragazzi siamo retornati ma siamo avvia si non ti preoccupare perché si vede tutto male ragazzi laga pure a voi perché laga eh vabbè lo finiamo il video ragazzi lo faccio io ragazzi questo video è finito è finito perché non possiamo vedere troppi video e quindi perché finiamo subito i video perché non siamo tanto bravi a questo gioco quindi questo video è finito vi ricordo comunque vi ricordo vi ricordo di iscrivervi al canale mettere un video ci vuole la campanellina per essere sempre aggiornati condividere i video con tutti i vostri amici iscriviti e iscriviti e iscrivetevi anche al mio canale tiktok antonio papa trattino basso ufficiale 2000 iscrivetevi al mio profilo di instagram luca damiano 1999 ok purtroppo andrei su instagram non li possiamo lasciare in descrizione perché non siamo ancora di tubernati il video potrebbe anche finire qui parliamone un po' per 7 minuti scherzando vabbè il video finisce qui e ci vediamo in un prossimo video bye 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 bye